Lascia che ti presenti concorso di danza b-boy tenutasi nell'ottobre 2023. La squadra di ballo si esibisce questa volta e composto da cinque donne. E lo sta mostrando caratteristiche della danza femminile coreana. Il K-pop coreano lo è rappresentato da un gruppo di ballo. Questa squadra di ballo a cui ha partecipato spettacolo di danza K-pop coreana mostra le caratteristiche del K-pop coreano. Ci sono molti queste squadre di ballo in Corea. Stanno lavorando duro, puntando al mercato musicale globale. Hongi Ichi K University Street è un grande quartiere commerciale di Seoul intorno all'università di Hongi Ichi K, alla stazione dell'università di Hongi Ichi K e stazione Seng Su. Onde in Onde Street è l'abbreviazione di Hongi Ichi K University. Dopo l'apertura della stazione dell'università di Hongi Ichi K, la SEO GYO Dong. I quartieri commerciali di Dong e GYO Dong e Seng Su Dong o la scena indie nazionale. Che mantengono i loro caratteristici distretti commerciali. Erano comunemente indicati come Hongi Ichi K University Street. Ma fu stabilito il nome Honge Dai Street. Naturalmente. In realtà. Proprio come le abbreviazioni dei nomi universitari come la Konkup University e Iua Woman University sono spesso usati come nomi di aree del centro. Questo posto è spesso chiamato semplicemente Onde. Altri famosi quartieri universitari di Seoul includono Dayak Row situato vicino alla stazione di Sinchon o stazione IHWA. Quartiere commerciale dell'università femminile di Sang Shin. Distretto commerciale della stazione dell'università nazionale di Seoul, Sharosu Gil. Che è il distretto universitario dell'università nazionale di Seoul, e Konkup University Street sul lato est di Seoul. Hongdae Street le travolge tutte. Diventando una delle mete turistiche più rappresentative attrazioni in Corea oltre Seoul come quartiere universitario del centro. Considerando le sue dimensioni a partire dagli anni 20. Quando il distretto commerciale si è espanso rispetto alle zone circostanti, non è irragionevole dire che è il centro più grande a Seoul. Ora, il quartiere commerciale dell'università di Hongjik è cresciuto così tanto che alcuni dicono non è sufficiente usare il nome dell'università come nome del distretto commerciale. Mentre i turisti nazionali e stranieri affluiscono lì, si stanno costruendo tre grandi centri commerciali intorno alla stazione dell'università di Hongjik.